bella a tutti ragazzi e benvenuti sono il pet che oggi ragazzi continuiamo la mission continuiamo il capitolo del schianto regalo capitoliamo tutto quello è successo è successo che sono arrivati c'è una bomba con la abbiamo scoperto dove si trova questo questo coso questo posto questo tesoro noi ora lo stanno andando a cercare e ce l'ho eravamo andati in aereo con insieme a questa ragazza però ci hanno abbattuti con delle contrarie che non ho capito che ci fanno delle contrarie non l'isola abbandonata quindi ora ragazzi dobbiamo quindi che se no l'era ci hanno abbattuto e praticamente ci siamo dovuti paracabitare e siamo un andato dall'altra parte c'è tre che andava quest'altra parte della nante quindi era dobbiamo ricongiungerci c'è il nostro luogo dello schianto perché magari lei sarà lì e che lei ha la mappa il tesoro non gliene può frega di me ma di c'è adretto in età lei la odia però poi scoprirete più più avanti nei prossimi nei prossimi lanciate il capitato che succede punto se succede quello che stasciato è quello che sto pensando arrivano arrivano ma ho visto all'inferno ora mi rozzo dupalla sai ok uccisi possiamo andare ecco ma io mi ricordo che in un vecchio cioè io mi ero bloccato su questo mi ha fatto la combo cazzo 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 su questo 3 perché l'ho già giocato sto anno io avevo già fatto un po di questi mi ero bloccato in questa missione perché c'era un punto e non se lo facciano troppi buon vedere troppi nemici poi vedremo se riuscire a fare vabbè devo riuscire a prendermi uno di quei fucili vaffolo vaffolo intanto non capisco perché ci vogliono 70.000 colpi ora vi ho ammazzato a tutti cazzo regà cazzo regà ma non è questo ma non è possibile quanti quanti sono quanti che cazzo si riposte ma baci te all'inferno brutto bastardo dateci tutti chi stronzi ovviamente non era questa la parte in cui mi sono bloccato era molto peggio vabbè ma quanti quanti non ci vogliono morire cosa non ho più colpi non ho più colpi vado mi riparo veloce prendiamo veloce tutte le munizioni perché raga ci hanno quasi shottato ho il pompa ma l'aspetta piglio al posto ah no ando aprando il fucile la capo come cazzo salvo in teoria basta vado qui poi qui no non è vero non è che forse devo andare in lascio proprio ci sta che devo andare ah vado di qua vado di qua ovviamente ho tratto un cimeno anello d'oro con intrecci bello bello cioè dire di usare la pistola cimeno anello d'oro ci sono colpi oh granati ottimi regalo sto qua non li dovremo mai ecco lì 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 ragazzi facci ok eh sparo io per ucciderti brutta merda affello boh brutto strug in un attimo ok riusci a fare un colpo alla testa per questo e questa missione è difficile, c'è tanta squadra ma che vuoi sparaffa scusa per divertimento vuoi sparare mi sparo ma per ammazzare te cioè tanto morirete tutti anche io ho veramente una bellissima mira ragazzi si prova 7.000 colpiti che sono immortali sono il nuovo nemesis del resident evil che non è possibile lo prendiamo il fucile si si spara un altro punino vai 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 ok vieni 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 madonna ma quanti qui non si ferma ma quanti sono porca pittana quindi fa più sicuro molta merda ok ok devo 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 più ammiso al pompo e forse al meglio colpi 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 non c'ho nemmeno cazzo cazzo dovevo andare trovato ma che cazzo dovevo andare aspetta 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 forse ho capito so capito ecco di qua di qua di qua e ci siamo stiamo attenti a sparare subito perché un po' con la testa si procede mi morì dopo un po' zio ci siamo resti voi lo trovo fermatelo non riesco a prenderlo si tagli che ora c'è dei fucili diamo 277 non sono tanti ragazzi non sono aspetta perché di qua non è che bellezza e qui parte ci sembra posta devo saltare porca porca puttana tolgiti veloce da quest'anscena ragazzi da faremo in due faremo due episodi perché è lunga io capirò un po' come fare davvero io non cerco cioè dico la verità perché se mi raccomando zio ti dico premere scelte andati da notti butti la sentire gente sai perché è impossibile sta missione per questo è mio tolgiti veloci da quel posto non lo so rega io voglio farvi calma ma io non lo so tre volte morto per questa merda piano con calma allora con calma di qua regami sta già rompendo i coglioni a fare già questo episodio forse per questo ho smesso i giocatori poi stanciato dalmeno porco ok ok bravo bravo che cazzo cazzo fai anche buttati su te ci voleva tanto è capello veloce porca puttana mi sparano pure copri ti faccio cadere ma cazzo cazzo brutta merda e muore e la madonna questa parte di ragazzo forte ma dio po calmati calmati o meno male mi fanno incominciare qui perché se mi faccia cominciare quel posto di merda dal inizio mi cazzavo ragazzi corri c'è il coso accanto dove va tafem capito 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 ma non lo so riga ma quanto è difficile capito che è un posto scarso però si ma ok 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 raga teoria oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta vuoi andare veramente qui ma tu qui mi fai venire un infarto però però mi fai venire un infarto no ma che cazzo ma che cavolo fa ma che cazzo no ragazzi io non so più cosa fare io non lo so riga ma che cazzo mi sto a dire no ti devi sali oh ti scivola va tanto proprio eh voi siete mati zii ma che cazzo fai no no raga mi sono già rotta i coglioni oh madonna santa sono già rotta i coglioni solo a questo livello di mai di là ok 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 ma corri corri madonna mannaggia chita morto no devi salire te lo so sapere devi salire ok se io mi vedo nella vita della fare sta roba ma è nella vita c'è buono poi a dire il credo i creatori del gioco che problemi avevano questo povero uomo tappato tutto estero e dicono tutti questo 3 che sia veramente esistito nata andrei che alcuni dicono così ma secondo me no è una mazzata così per fare scena ragazzi ce l'abbiamo fatta dopo 20 anni della mia vita in ottimo come tazzo se non c'è granate però ehm fra oh cazzo si muove da sol ma qui si deve salire cambiare oh ecco l'aereo battuto ragazzi quello è l'aereo ah ricordiamoci nel vecchio episodio salivana è morto quindi cioè almeno credo tu adesso hai una pallotta nel coso morto oh quanta gente quanta gente quanta gente quanta gente io ora ora vi ammassa tutti brutta merde ok 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 porca puttana non ho capito ci sto capendo se la sto luce di merda da ok io l'abbiamoci sfritto prendiamoci veloce le munizione no arrivano altre arrivano altre quanti quanti Ok 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 No Cazzo ho preso il punto Può essere d'aiuto Adesso mezzo salgo qui Scusate Solo per sapere Mezzo salgo qui Come cazzo Sali Non è che devo andare qui forse Sali Sali Non è che devo andare qui veramente Ragazzi Bella sei Oh no Marina No Ancora Non abbiamo capito che È stata presa da questi Mirati Cominciamo Ci avete la mamma Provo bella Ci avete la mamma Provo bella Da sapere Non vuosti a farsi una vita Andare a vivere Con loro fidanzatino Madonna C'è tanto che Ci voglio propone Non lo so Stasso Spendiamoci Le munizioni Dobbiamo capire Come Ancora Ancora Un minuto Però mi hanno rotto Veramente le falle Sapete Ma sapete No Mi avete pure Rotte Le tazze Si attivano Le granate Madonna Sto gioco Meno bello Oh cazzo Troppo morire Troppo morire Muore Begna la puta Ok Ok Non siamo del tutto morti Meno male Ragazzi Ragazzi È stato È stato Un delirio Veramente Ce l'abbiamo fatta Per ora Porca puttana Meglio guardare Dove cammino Te lascio Ok Raga Io direi che Il video può finire Qui Lo so che Nel prossimo episodio Dovremmo scalare Tutta quella roba Gigante Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un like E un commento E ci vediamo Un prossimo video Balla raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti